Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Il 17 non sempre porta male, anzi, per le marche sono infatti 17 le bandiere blu per il 2022 con il ritorno nel carnet delle località turistiche premiate dalla FEE anche di Porto Recanati che riconquista il vessillo dopo 8 anni di stop. Il programma internazionale Bandiere Blu assegna il suo riconoscimento di qualità ambientale ai luoghi le cui acque sono risultate eccellenti negli ultimi 4 anni. Ma quali sono i comuni premiati? Per il pesarese, Gabicce Mare, Pesaro, Fano, Mondolfo, Marotta. Per la provincia di Ancona, Senigallia con la sua spiaggia di Velluto, Ancona a Porto Novo, Sirolo e Numana. Per la provincia di Macerata, Cela New Entry, Porto Recanati, ma anche Porto Potenza Picena e Civita Nova Marche. Per il Fermano, Lido di Fermo, Casa Bianca, Marina di Altidona e Pedaso con il Lungomare dei Cantautori. Il sindaco di Fermo e vicepresidente Anci, Paolo Calcinaro, esprime tutta la sua soddisfazione ai nostri microfoni. Che soddisfazione c'è per le Marche? Sicuramente per le Marche c'è un segnale ottimo, perché c'è un ritorno al tetto di 17, che era un tetto toccato qualche anno fa, poi con la New Entry di Altidona l'anno scorso e quest'anno il ritorno, dopo molto tempo ai Porto Recanati, fa capire come le Marche sono un sistema costiero turistico in evoluzione, in miglioramento costante. E questo credo sia un dato importante per tutta la nostra regione, ma anche per l'entroterra, perché noi abbiamo un tipo di turismo che può collegare con molta, molta facilità il turismo costiero con il borgo e addirittura anche con la montagna. La bandiera blu sventola anche su tutta la costa Picena, Cupra Marittima, Grotta Mare e San Benedetto del Tronto con la sua riviera delle Palme. Per quanto concerne la classifica a regioni, la Liguria conferma 32 località. Seguono con 18 bandiere la Campania, la Toscana e la Puglia. E sono appunto 17 i riconoscimenti per la Calabria e le Marche, che di fatto si piazza al terzo posto.